Parta Futuro è uno spazio messo a disposizione dalla provincia di Roma per l'orientamento, la formazione e il lavoro, che ha l'obiettivo di puntare i giovani all'innovazione come principali motori per lo sviluppo economico. Da anni, infatti, costituisce una valida opportunità per tutti i ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro e alle imprese, orientandoli verso le attività più adatte alle loro competenze e ai loro interessi, attraverso incontri, servizi e corsi di formazione totalmente gratuiti. Quest'anno, il programma del meeting prevede un doppio evento, che si svolgerà il 22 maggio in contemporanea tra Roma e Milano, in cui verrà affrontato il tema della trasformazione del mercato del lavoro di queste due metropoli. La conferenza sarà un'occasione per riflettere e arrivare a conclusioni concrete, volte ad ottimizzare le politiche attive per il lavoro e la formazione in questa difficile fase dell'economia nazionale ed europea. A dare il loro contributo al dibattito saranno presenti alla conferenza l'assessore alle politiche del lavoro e formazione della provincia di Roma Massimiliano Smeriglio e Cristina Tagliani, assessore alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca del Comune di Milano.